Ciao a tutti! Oggi vediamo come fare lo schema di un orologio. Una volta fatto questo schema può essere utilizzato ogni volta che dobbiamo tracciare i numeri o i simboli per costruire un orologio e ripassarlo con il pirografo. Allora, vediamo che ho diviso in 12 spicchi un cerchio e a questo punto si possono fare degli orologi di varie dimensioni. Poi posso utilizzare uno stencil per segnare i numeri, come ad esempio è stato fatto in questo caso, uno stencil in metallo. Prima faccio sempre il tratto del numero a matita, anche se con uno stencil in metallo si potrebbe lavorare direttamente con il pirografo, ma vedo che viene meglio se si fa prima il tratto a matita. e poi lo vado a ripassare con il pirografo e alla fine dovrò cancellare sia i tratti dei numeri, sia lo schema fatto sul legno. Ecco qui un altro orologio dove sono stati fatti i numeri, in questo caso dei pallini. Se vi interessa approfondire questi argomenti potrete trovarli sulla tecnica della pirografia che ho scritto nel 2020, lo trovate in tutte le librerie e visitare il nostro sito elettronicadidattica.com Io vi aspetto per i prossimi video, a presto, ciao a tutti!